Dopo tanti anni di aver lavorato con Paolo e tra la Hong Kong e dopo tanti anni di vivere all'estero e pensare a tutto quello che abbiamo fatto assieme e cosa mi è rimasto, la cosa che secondo me è stata più importante fino ad adesso è stata la sua capacità di interiorizzare l'arte marziale nella vita dello studente, cioè utilizzare gli strumenti e questo metodo dell'arte marziale per far conoscere allo studente la propria personalità, i propri limiti e come affrontare tutte queste cose e negli anni mi ha permesso di vedere anche come l'arte marziale dentro di me si è espressa in tutti gli aspetti della mia vita, sia che siano stati gli esami da affrontare o difficoltà sul lavoro, nelle relazioni con gli altri o condizioni fisiche, mentali, spirituali. Questo è sicuramente stato il dono più grande che ho ricevuto lavorando con il maestro Paolo e sono grato ancora fino adesso, sono passati tanti anni.